Ciao ragazzi, oggi abbiamo una serie speciale che si chiama Agneta e oggi faremo un esperimento con la Fanta e con l'acqua frizzante, che dobbiamo mettere la Fanta dentro dei bicchieri e l'acqua frizzante dentro un bicchiere e poi dobbiamo mettere un po' di sale. Ora potete vedere, tipo, ora mettiamo la Fanta dentro al bicchiere, vedete? E ora mettiamo un po' di sale. Guardate che figo! Ora dobbiamo mettere l'acqua frizzante nel bicchiere. Vai! Secondo voi, quale è stato più esplosivo? Secondo me la Fanta, secondo te? La Fanta! Perché l'acqua frizzante non è stata poi così tanto figa. Ora lo rifacciamo con l'aranciata, cioè la Fanta. Vai! Non è stato così tanto bello, perché è già un po' messa. Cosa fai? Non lo so. Li facciamolo con l'acqua perché magari si era un po'... Vai! Guardate che è già figo! Vai! Mettiamo un po' di più! Tempo di caldo! Allora vai, Anja! Mamma! Attento! Allora, dovete mettere un bel commento, iscriversi al canale e lasciare un bel... Maic! Ciao! 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 Grazie a tutti